Francesco Ruzza è l'atleta dell'anno dell'atletica veneziana campione italiano in salto in alto che cosa ricordi allora degli scorsi campionati italiani era una giornata che non è iniziata nei migliori dei modi la notte era stata un po' movimentata per l'agitazione della gara c'era la pioggia c'era tutto però poi più o meno quando sono entrato in gara è uscito il bel tempo si è sentito tutto il calore del pubblico è stata un'emozione veramente bellissima fare quei due cinque personale raccorda giornale tutto in una volta e vincere i campionati italiani è stato veramente bellissimo l'altro tu hai già realizzato un 2 10 indoor però ricordiamo outdoor il record italiano e 2 0 7 prossimo alla portata obiettivo sì sì assolutamente anzi non è quasi più un obiettivo perché avendo fatto questo 2 10 si punta sempre più in alto al momento si pensava con il mio allenatore caldo e galdino che potrebbe essere realisti con due 15 agli italiani allievi a giugno quelli outdoor e poi si vedrà insomma come andrà tutta la stagione ci racconti di francesco ruta che ragazzo a francesco usa è un ragazzo eccezionale eccezionale in tutte in tutto è bravo e attento qualche volta mi insegna lui qualcosa da fare il proposito il tuo allenatore galdino minotto ha detto beh qualche volta è francesco a insegnare a me qualcosa ma non penso sia così perché tutto quello che sa me lo sta insegnando e i risultati si vedono magari come siccome a me piace molto il mondo dell'atletica soprattutto dei salti in alto qualcosina cerco di proporre la ma di qualche tecnica che vedo magari su internet qualche saltatore più qualche saltatore professionista ma alla fine è sempre lui che vede qual è la cosa migliore per me e alla fine so che è così non l'unica l'unica via per migliorare segui indicazioni del proprio allenatore e fidarsi ciecamente festa dell'atletica veneziana a caurle nel 2016 ricordiamo che tu provieni dall'olimpic caurle quindi oggi è una giornata particolare anche per te è stato strano tutte le altre premiazioni tutte le gare come minimo era un'ora di macchina a questa premiazione sono arrivato in bicicletta quindi mi sentivo proprio a casa è stato veramente bellissimo ricevere il premio di migliore atleta veneziano dell'anno a casa propria insieme a amici parenti e autorità del proprio paese